La consigliera Guadagno. Prego, per tre minuti ne ha facoltà. Era semplicemente dire che siamo partiti in maniera strategica dal fortantenne unico di proprietà comunale, anche perché vogliamo far capire come il Movimento 5 Stelle, salendo al Governo, è comunque in grado di recuperare l'utilizzo dell'unico forte di sua proprietà e di ridarla alla cittadinanza. Sicuramente la Commissione seguirà passo passo tutto questo processo di partecipazione, come immagino anche la Commissione urbanistica, tutte le commissioni interessate a questo percorso. Quindi lo seguiremo, il tavolo di lavoro lo effettuerà direttamente la Commissione. Grazie, ringrazio il Consiglio.